Una sola giornata ma densa e carica di speranza. La visita pastorale di Papa Francesco in Molise sul tema Dio non si stanca di perdonare ha preso il via a Campobasso con l'incontro con il mondo del lavoro e dell'industria nella Ulamagna dell'Università degli Studi del Molise. Dopo il saluto del rettore, la testimonianza di una mamma operaia e di un giovane agricoltore, il pontefice ha sottolineato che il lavoro offre dignità all'uomo e che per andare avanti nel futuro bisogna essere creativi e credere nel Signore. Un buon percorso formativo, ha detto Papa Francesco, non offre facili soluzioni ma aiuta ad avere uno sguardo più aperto e più creativo per valorizzare meglio le risorse del territorio e soprattutto permette uno sviluppo che sappia rispettare il creato, una delle maggiori sfide del nostro tempo perché se l'uomo dialoga con la terra la fa fiorire. Non minore la sfida di conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia e la questione della domenica lavorativa. Forse è giunto il momento di domandarci se quella di lavorare alla domenica è una vera libertà. Il tema del lavoro è tornato a essere protagonista anche nell'ex stadio Romagnoli dove Papa Bergoglio ha preseduto la celebrazione eucaristica. Perché quella del lavoro è una sfida che interpella in modo particolare la responsabilità delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e finanziario. È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione. Gli altri interessi, anche se legittimi, sono secondari. E la via per costruire un futuro diverso fuori dagli schemi è quella di mettersi al servizio degli altri secondo l'esempio di Maria. Dio ci libera dal grigiore interiore, ha concluso il Pontefice, ci rende capaci di andare oltre ambizioni e rivalità che minano l'unità della comunione senza chiacchiere e ci permette di affrontare la vita con gioia e speranza. Con noi il Rettore della Basilica di Castelpetroso, Don Massimo Mucillo. Mi rendo conto anche dalla mia breve esperienza di tre anni qui di Rettore della Basilica della Dolorata che davvero viene premiato sempre chi ha la passione nel fare le cose. E la passione premia perché di fatto ti fa sposare una causa con tutto il cuore, quindi te la fa portare avanti veramente con gioia e con determinazione, non aspettandoti nulla in cambio. E quello che ti serve per la vita arriverà perché qualcuno si accorgerà che tu lavori per passione e non per un vile tornaconto. E allora davvero la passione è quella che ci vuole per riprendere anche per poter dare risposte ad un lavoro che sembra non esserci. In realtà tante volte non c'è un lavoro a guadagno facile, questo sì. Però se una persona è capace di coltivare la sua passione disinteressatamente, anche quella passione può portare i frutti sperati per farlo vivere. Dopo la messa Papa Francesco si è recato nella cattedrale di Campobasso dove ha salutato e abbracciato alcuni malati e disabili. Quindi si è trasferito alla Casa degli Angeli, il nuovo centro caritativo della diocesi creato in una ex scuola dove ha pranzato con i poveri assistiti dalla Caritas inaugurando così la struttura. Il pomeriggio è iniziato all'insegna della gioia con l'incontro con i giovani delle diocesi di Abruzzo e Molise al santuario di Castelpetroso. A tutti il pontefice ha chiesto di non farsi sopraffare dalla cultura del provvisorio che ci priva del nostro vero destino, delle mete più vere e autentiche e di costruire la propria vita sulla solidità delle promesse di Dio piuttosto che sulla sabbia delle emozioni. I giovani sono coraggiosi, ho detto, i giovani hanno speranza e terzo, i giovani hanno la capacità di essere solidali e questa parola solidarietà è una parola che non piace sentire al mondo d'oggi. Alcuni pensano che fosse una parolaccia, no, non è una parolaccia, è una parola cristiana, andare col fratello avanti per aiutare a superare i problemi. E non dimenticatevi, camminare la vita, mai girare la vita. Grazie. È vero, bisogna costruire non sulle cose facili ma su quelle che richiedono appunto passione e questa parola torna perché Gesù nell'orto degli olivi soffre la sua passione e la soffre anche sulla croce, che è una passione di sofferenza certamente ma di una sofferenza che ha un perché e il perché di Gesù Cristo è l'amore. Particolarmente toccante è stato l'appuntamento con i detenuti nella casa circondariale di Isernia. Alla terza tappa della sua intensa visita pastorale, Papa Francesco ha ricordato che nonostante gli errori e le cadute, nonostante il dolore per le conseguenze di scelte sbagliate, l'importante nella vita è andare avanti con speranza. Dio è padre e misericordia e ci ama sempre, aggiunto, se noi lo cerchiamo ci fa rialzare e ci restituisce pienamente la nostra dignità. Dio non si stanca di perdonare perché sa che l'uomo è fragile e che proprio perché anche il discorso che abbiamo fatto finora è impegnativo, è estremamente difficile e si sa che per strada ci si può perdere, ma Dio non si stanca di perdonare, cioè ti richiama e ti rimette di nuovo per il cammino giusto. Infine l'incontro con la cittadinanza nella piazza della cattedrale di Sernia è l'indizione dell'anno giubilare celestiniano. Proprio a Sernia infatti nacque 800 anni fa Pietro del Morrone, eletto Papa il 5 luglio 1294 con il nome di Celestino V. Qui Papa Francesco ha chiarito che la misericordia non è una fuga, non è un'evasione dalla realtà e dai suoi problemi, ma è la risposta che viene dal Vangelo ed è la forza che può cambiare il mondo. L'amore come forza di purificazione delle coscienze, forza di un rinnovamento dei rapporti sociali, forza di progettazione per un'economia diversa che pone al centro la persona, lavoro, la famiglia piuttosto che il dinaro e il profitto. Il Molise ha bisogno di riguardare la propria storia, la propria cultura, la propria tradizione, anche la propria voglia di fare e di riprendere dal viaggio di Papa Francesco veramente una decisione nuova per impegnarsi sempre meglio e sempre più a fondo per dare il meglio di sé e lo può fare.